Nel reparto macelleria abbiamo diminuito 20 prezzi di vendita al pubblico, diminuito, senza nessun aumento ai clienti. Nei solumi a Ticini abbiamo aumentato un prezzo di vendita e uno l'abbiamo diminuito. Nei generi vari 11 prezzi di vendita diminuiti. Nei supermercati Conad non è il punto vendita che decide i prezzi, è la cooperativa. Ogni settimana noi abbiamo le variazioni che ci manda la cooperativa, non facciamo altro che applicarle. Naturalmente la cooperativa poi controlla quello che facciamo, quindi la cooperativa di Forlì a cui noi siamo associati, sa ogni giorno, ogni minuto quello che facciamo con i prezzi. C'è stato un supermercato in provincia di Torino che non è stato corretto, era un socio acquisito da poco da un'altra catena, che non ha applicato i prezzi dell'offerta. Gli hanno immediatamente ritirato la licenza dell'insegna, quindi non è più un supermercato Conad, e adesso stanno ritirando gli anche l'affitto d'azienda, quindi per dire che tipo di controllo, assido, corretto, continuo che c'è sui prezzi. Quindi non siamo noi che facciamo i prezzi, è la cooperativa. Tra l'altro la cooperativa ha sempre come obiettivo dare al consumatore il prezzo più conveniente possibile, perché è l'ultima... E forse anche la numerosa clientela che ha le sue spalle lo conferma. Sì, e anche qui noi stiamo lavorando in condizioni veramente difficili, ma cerchiamo di fare il massimo, cerchiamo di essere corretti, contiamo i clienti che entrano, cercando di non fare assembramento, anche se chi lo decide qual è l'assembramento, però noi con il nostro buon senso facciamo entrare 20-22 persone, non di più. Quindi anche questo, lavorare sotto pressione, non è semplice. Quindi dover ribattere a queste voci che noi mettiamo i prezzi, veramente è stato uno sforzo venire qua a dire questa cosa. È 25 anni che abbiamo questa attività e per noi parla il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Penso di non dover raggiungere niente altro.